Buonasera e benvenuti alla terza edizione del Tg6 che apriamo parlando della marcia del 2 marzo in corso gli ultimi preparativi per la manifestazione di domani a Roma. Gli amministratori del Terramano con associazioni di categorie e sindacati sfileranno in corteo fino a Montecitorio e faranno pervenire al governo la richiesta di modifica al decreto Sisma chiedendo particolare attenzione ad un territorio messo in ginocchio dalle ultime calamità, i particolari nel servizio di Andrea Costantini. La voce di Terramo e dell'Abruzzo intero domani a Roma per la manifestazione con la quale amministratori locali, associazioni di categoria, sindacati intendono ottenere dal governo provvedimenti specifici per rilanciare un territorio estremamente provato dagli eventi calamitosi che l'hanno colpito, a cominciare dal terremoto dello scorso 24 agosto fino all'ondata di maltempo e sisma di metà gennaio che hanno messo in ginocchio il tessuto imprenditoriale e più in generale l'intera collettività del Terramano. Obiettivo principale la modifica del cosiddetto decreto Sisma. Le istituzioni terramane chiederanno di incontrare i presidenti di Camera e Senato, la relatrice della legge di conversione del decreto e i capigruppo della Camera. Si sta lavorando affinché una delegazione allargata composta da tutti i sindaci, i presidenti di provincia, insieme a Camera di Commercio e sindacati, possono incontrare i vertici parlamentari, ma se questo non fosse possibile, a consegnare le proposte di modifica al cosiddetto decreto Sisma, starà una delegazione di una decina di amministratori in rappresentanza di Terramo e dell'Abruzzo, anche perché le adesioni fuori provincia sono tante, a partire dalle amministrazioni provinciali di Chieti e Pescara, fino a quella dell'Aquila, che sarà presente con il suo gonfalone e con il consigliere provinciale Emilio Cipollone in rappresentanza del presidente. Decine delle organizzazioni che hanno comunque ufficializzato la loro adesione, tra cui Anci Abruzzo, la Camera di Commercio, i sindacati confederali, l'Associazione delle piccole e medie imprese, Confindustria Terramo, Confesacenti, CNA, Confcommercio, l'Associazione Robin Hood e l'Arci. L'Unione delle Provincie Italiane patrocinerà la manifestazione. Ieri sera i sindaci si sono ritrovati in provincia per mettere a punto l'organizzazione e il primo cittadino di Terramo, Maurizio Brucchi, ha fornito una serie di informazioni per la logistica e la sicurezza del corteo. Saranno circa 30 gli autobus che viaggeranno verso la capitale, 17 quelli organizzati dai comuni, uno istituzionale organizzato dalla provincia con la Camera di Commercio, 5 del comune capoluogo, uno organizzato dall'Associazione Costruttore Edili, un autobus arriva dalle province di Chieti e Pescara, due dai sindacati confederali. L'arrivo è previsto domattina fra le 10 e le 11. Il corteo si dirigerà da Piazza Venezia a Piazza Santi Apostoli e da lì una parte, non più di 500 persone per ragioni di sicurezza, arriverà a Montecitorio. La protesta che domani vedrà sfilare migliaia di terramani e abruzzesi a Roma per ottenere maggiori fondi per il territorio non servirà a nulla. Lo sostengono i consiglieri comunali di Terramo del Movimento 5 Stelle, Fabio Berardini e Maria Cristina Marroni della lista Terramo 3.0, che polemizzano sulle disastrose scelte amministrative fatte dai politici negli ultimi 15 anni. C'è aria di polemica a Terramo in vista della manifestazione di protesta a Roma. Troppo facile per i sindaci pretendere solo adesso dei fondi dopo aver governato male negli ultimi 15 anni. Lo affermano i consiglieri comunali di Terramo, Fabio Berardini del Movimento 5 Stelle e Maria Cristina Marroni di Terramo 3.0. Non siete proprio convinti di questa protesta a Roma? Noi siamo per la protesta a fianco dei cittadini per far sentire le ragioni del territorio terramano, ma un secco no a una manifestazione, una passerella da parte di politici che hanno governato questo territorio da oltre 15 anni e che vorrebbero, dal nostro punto di vista, lavarsi la faccia con questa manifestazione addossando tutte le responsabilità al governo, quando invece la maggior parte delle responsabilità sono proprio di chi ci governa localmente. Cosa avrebbero dovuto fare secondo lei in questi 15 anni? Sicuramente utilizzare gli strumenti che sono stati messi a disposizione dalla protezione civile e dal governo stesso per fare investimenti sul territorio. L'ultimo strumento messo a disposizione è scaduto il 20 febbraio da parte dell'ultima finanziaria che dava la possibilità ai comuni di utilizzare delle risorse fino a 700 milioni per investimenti sulle scuole e per le calamità naturali e il Comune di Teramo non l'ha utilizzato perché, grazie alla situazione disastrosa del bilancio, non ha potuto accedere a questa forma di finanziamento che era stata messa a disposizione dallo Stato. Quindi non possiamo lamentarci se i veri responsabili anche di questo dissesso e di questa grave situazione di crisi è da debitarsi proprio a coloro che ci governano da 15 anni. Quindi voi domani non andrete a Roma? Noi domani andremo a Roma ma con i cittadini non per farci selfie, per farci foto o per fare passerelle politiche con i simboli. Noi andremo lì con i commercianti, con i cittadini semplici diciamo ma sicuramente non andremo lì a pulirci la faccia anche perché siamo coloro che non hanno mai amministrato questo territorio e quindi siamo gli unici credibili che possiamo veramente andare a testa alta. Da Teramo sono stati già completati 34 pullman al corteo a Roma parteciperanno anche i rappresentanti dell'Aquila, di Chieti e di Pescara tanti gli abruzzesi illustri che si uniranno ai loro conterrani tra loro l'attrice teramana grazie a Scucci Marra. E da Teramo ci trasferiamo all'Aquila dove questa mattina si è insediato il nuovo questore del capoluogo di regione si tratta di Antonio Majorano il servizio di Germana Dorazio. Antonio Majorano è il nuovo questore dell'Aquila qual è stata la prima impressione? La mia impressione è stata quella insomma perché mi sono fatto un giretto ieri pomeriggio quando sono arrivato quella che può capire benissimo una persona che viene e trova questa città insomma in ricostruzione quindi ripercorrere quel dramma che è stato vissuto da questa popolazione quindi pensando a questo un ulteriore, un rafforzato se è possibile impegno per cercare di rendere il nostro bene che dobbiamo assicurare che è la sicurezza un bene primario per gli abruzzesi e in particolare per gli aquilani. Che cosa si porta in questo incarico dell'esperienza fatta su tutto il paese? Il rispetto per tutti e la volontà di continuare a combattere ogni forma di devianza criminale e avendo la fortuna di fare un mestiere che dà la possibilità di agire nel sociale la consapevolezza che ad Aquila si può fare questo mestiere di poliziotto con un particolare riguardo alla socialità. Cambiamo pagina nel corso della seduta di giunta di ieri la regione ha approvato la carta di localizzazione pericoli per le valanghe vediamo Evitare il ripetersi di un altro rigopiano la giunta regionale ha approvato le norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga adottando la relativa carta di localizzazione dei pericoli massiccio del Gran Sasso d'Italia settore occidentale uno strumento previsto dalla legge regionale numero 47 del 92 che disciplina la formazione della carta di localizzazione dei pericoli da valanga prevedendo l'adozione delle relative misure di salvaguardia la carta individua sul territorio regionale cartografato di 8400 ettari le aree potenzialmente a rischio per il pericolo caduta valanghe e costituisce un primo reale esame delle aree in cui per conformazione morfologica ed altimetrica è probabile che si verifichi la caduta di valanghe spontanee nel provvedimento approvato viene specificato che in attesa di definire la carta dei rischi locali di valanga è sospesa a titolo cautelativo la edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali produttivi e di carattere industriale artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità in presenza di esigenze contingenti di carattere locale ed in attesa dell'inclusione delle singole aree nelle due categorie di rischio sopraindicate le amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente assumendo i relativi oneri ed avvalendosi della collaborazione di tecnici specializzati in materia ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un'area inclusa nella carta regionale il Core Neva Comitato Regionale Neve e Valanghe valuta il livello di rischio relativo alle singole situazioni e qualora sia ritenuto eccezionale ed attuale il Comitato può prescrivere l'immediata sospensione di ogni utilizzazione delle opere e delle aree condizionandone il ripristino alla preventiva realizzazione di idonei interventi di difesa il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, infine ha comunicato che entro il 2018 sarà predisposto il piano completo dei rischi derivanti da valanghe che interesserà tutto il territorio abruzzese con un investimento che ammonta 1.300.000 euro che deriveranno da fondi nazionali Parliamo ora di occupazione perché il gruppo Kering ha sostituito l'amministratore delegato della Brioni Gianluca Flore lascia il posto a Jean-François Palou la decisione ha colto di sorpresa la CGL per il sindacato l'azienda da mesi sfugge al confronto e c'è il timore di un futuro disimpegno del gruppo nel sito vestino vediamo il servizio di Stefano Recanati la Brioni di Penne cambia ancora, Gianluca Flore non sarà più l'amministratore delegato dell'azienda Flore, arrivato in Brioni nel 2004, è stato sempre considerato l'uomo di punta del gruppo Kering la holding francese proprietaria di Brioni negli ultimi anni l'azienda ha vissuto uno dei momenti più bui dove in quasi 200 hanno lasciato attraverso una mobilità volontaria il posto di Flore momentaneamente sarà occupato da Jean-François Palou direttore manageriale del gruppo Kering ed è proprio questa decisione a preoccupare non poco il segretario CGL di Pescara Domenico Ronca la cosa è stata repentina e noi non siamo stati nemmeno informati noi non vogliamo pensare nulla però ci chiediamo per quale motivo questa azienda sfugge oramai da mesi al confronto con il sindacato noi abbiamo chiesto di sapere i dati, di sapere come stanno le cose e se i progetti che abbiamo concordato insieme al tavolo ministeriale vanno ancora avanti o c'è un ripensamento l'azienda sfugge, di colpo veniamo a sapere che l'amministratore delegato si è dimesso e allora abbiamo immediatamente richiesto alla nostra segreteria nazionale e al vicepresidente l'onorevole Lolli la riconvocazione del tavolo del MIS e che l'azienda ha disertato perché ci vengono a dire come stanno le cose questa è un'azienda che deve recuperare bisogna che recuperi un rapporto con i lavoratori e questo territorio di avere più rispetto dei lavoratori del territorio perché ultimamente non siamo soddisfatti di come stanno andando le cose tragedia per l'economia di questo territorio noi dobbiamo difendere la presenza di questa azienda in questo territorio con le uecchie o i denti non ci possiamo consentire che ci sia una qualche ipotesi di sbandellamento di non interesse Molta incertezza c'è anche tra i lavoratori così come dice Giancarlo delle Monache Purtroppo in questi ultimi tempi il clima è già teso, molto teso pensavamo di aver trovato un po' di sollievo nell'incontro del 30 con l'amministratore che era venuto qui in azienda ma dopo il comunicato fatto ieri dal direttore delle Sorse Umane che annuncia l'uscita di Gianluca Flore dalla Kering abbiamo paura di cadere di nuovo nel baratro abbiamo avuto delle promesse che la parte produttiva che si rotturava il lavoro comunque per due anni avrebbe mantenuto il posto di lavoro speriamo che questo venga mantenuto anche dal nuovo amministratore E ora apriamo la pagina politica partendo da Montesilvano dove proseguono le polemiche nel centro-destra a pochi giorni dalle dimissioni dell'assessore Cilli abbiamo ascoltato questa mattina il consigliere comunale Entoli Aliano piuttosto critico con la giunta Maragno Aliano dopo le dimissioni dell'assessore Cilli nel centro-destra a Montesilvano e Maretta c'è fibrillazione si può parlare di crisi a questo punto oppure no? Guardi io non saprei se si può parlare o meno di crisi so soltanto che noi abbiamo semplicemente espresso la nostra volontà di voler rilanciare immediatamente l'amministrazione in forza dei prossimi due anni che rimangono da adesso alla fine del mandato il rilancio di un'amministrazione deve passare necessariamente da un programma concreto da un programma valido e dunque da esecutori capaci di saperlo porre in essere a questo punto dunque cosa potrà accadere? deve accadere semplicemente che il buonsenso dovrà portare ad una concertazione tra le parti se si ha interesse a rilanciare l'azione amministrativa del centro-destra che a suo tempo abbiamo promesso ai cittadini di Montesilvano e che stanno ancora attendendo voi però restate critici su alcune decisioni del sindaco Maragno? il programma va rivisto completamente, il programma va eseguito vanno ripresi i punti che abbiamo proposto ai cittadini quando ci hanno conferito la fiducia fino ad oggi semplice amministrazione ordinaria tipica di un concordato di un fallimento da Montesilvano andiamo a Giulianova dove è stato approvato il bilancio ai nostri microfoni, ascoltiamo il primo cittadino, Francesco Mastromauro è un bilancio che non apporta nessun taglio rispetto alle previsioni del 2016 che non aumenta le tariffe dei servizi a domanda individuale siano essi scuola, bus, refezione scolastica o quant'altro non prevede nessun tipo di aumento di gabbelle nei confronti dei cittadini ma che anzi trova le risorse per finanziare anche il miglioramento sismico delle due scuole di Colleranesco e della Pagliaccetti di Via Gramsci che ho chiuso il 2 febbraio scorso 2 milioni e 55 mila euro per la ulteriore sicurezza dei nostri ragazzi un bilancio che prevede anche fondi per la cultura ripristinando il contributo per il Museo d'Arte dello Splendore un bilancio che infine guarda anche al futuro prevedendo il servizio di parcheggi a pagamento che affideremo alla società in house Giulianova Patrimonio così come abbiamo fatto l'anno passato con il mercato ittico con grandi risultati Andiamo a Pescara per tornare a parlare delle polemiche per quanto riguarda i lavori per il depuratore lavori che inizieranno nelle prossime settimane ci sono dei ritardi almeno così dicono le opposizioni dopo aver ascoltato nei giorni scorsi le posizioni della maggioranza del PD, del centro-destra e dunque dell'opposizione andiamo ad ascoltare la voce del Movimento 5 Stelle con la consigliera Erika Alessandrini Consigliera Alessandrini si parla tanto del problema mare problema fiume a Pescara il problema del depuratore ora i tempi si allungano Sì, abbiamo finalmente assistito al ritiro della vecchia delibera perché anche il PD locale si è reso conto che di un nuovo depuratore non c'era bisogno non era necessario quindi costruire un altro elemento così impattante sia a livello di inquinamento sia nocivo per la salute sia così costoso e appunto stiamo aspettando adesso la nuova delibera la nuova delibera dovrebbe riguardare quella che il vice sindaco del vecchio definisce parco della filiera depurativa fermo restando che un parco non esiste un parco depurativo perché comunque ci sono leggi e direttive che vietano la vicinanza dei cittadini e delle abitazioni a elementi depurativi a strutture depurative aspettiamo di sapere che cos'è effettivamente questa filiera depurativa si parla di alcune vasche di raccolta di acqua di prima pioggia vasche di sgrigliamento ma nessuno chiaramente attraverso anche dei documenti tecnici ha mai spiegato esattamente che tipo di struttura è e soprattutto di quanto spazio si ha bisogno perché nella delibera dovrebbero essere riconfermate le tre aree come indirizzo su cui collocare appunto queste nuove strutture ma ci aspettiamo di sapere esattamente di quanto spazio si ha bisogno e per fare che cosa dall'altra faccia della medaglia c'è la preoccupazione dei balneatori per l'estate che sta arrivando ci sarebbe stato bisogno di fare molto prima perché finalmente è un'epoca in cui i soldi li abbiamo abbiamo molti soldi a disposizione per fare degli interventi che sono quelli necessari per risolvere il problema abbiamo detto più volte che il primo elemento il primo intervento da fare è assolutamente quello della separazione tra la fognatura bianca e quella nera oggi che abbiamo all'incirca 30 milioni di euro a disposizione è il primo intervento che dovremo progettare e prevedere per risolvere questo problema definitivamente Restiamo a Pescara per parlare del mercato di Piazza Muzzi a breve partiranno alcuni lavori per migliorare la struttura ma negli ultimi giorni ci sono stati anche dei danni provocati da alcuni vandali a tal proposito abbiamo ascoltato l'assessore al commercio del comune di Pescara Giacomo Cuzzi Assessore Cuzzi parliamo del mercato di Piazza Muzzi mercato soggetto a lavori che partiranno da qui a breve ma c'è stato anche qualche problema negli ultimi tempi con una vida piuttosto molesta qualche danno ai bagni però niente di trascendentato ci sono dei lavori che attengono alla manutenzione quindi dei lavori che vengono fatti anche a seguito delle abbondanti piogge e nevicate che abbiamo avuto nel mese di gennaio per un importo che è inferiore a 40 mila euro quindi che dipende da infiltrazioni e altre piccole accortezze all'interno del mercato e poi c'è stato sicuramente un atto vandalico che ha portato alla rottura di uno dei bagni a servizio dell'utenza del mercato di Piazza Muzzi non parlerei di movida molesta perché diciamo che dopo gli accorgimenti che sono stati presi con gli operatori con le forze di polizia municipale col posto interforse quindi col coordinamento di tutte le forze dell'ordine oggi Piazza Muzzi sicuramente non porta alla cronaca degli episodi di violenza ma sicuramente una movida che deve essere ancora educata per una convivenza felice con quelli che sono poi anche i residenti che hanno diritto al riposo abbiamo pubblicato il bando per il bar che scade proprio oggi il primo marzo quindi arriveranno sicuramente le proposte che porteranno all'allestimento di un ulteriore punto all'interno del mercato commerciale e poi ci saranno altri due spazi che metteremo presto a bando per completare quella che è l'offerta della Galleria Food che vuole porsi come un momento di eccellenza enogastronomica del territorio ma anche di organizzazione di eventi di qualità Siamo alla pagina dello sport con il calcio in primo piano per parlare del Pescara perché proseguono le polemiche a distanza tra il presidente del Sodalizio Biancazzurro Daniele Sebastiani e l'ex amministratore delegato e attuale socio della società Biancazzurra Danilo Iannascoli questa mattina è stata diffusa da Iannascoli una nota per delle precisazioni dopo alcune dichiarazioni del presidente Biancazzurro tutto questo mentre la squadra prosegue gli allenamenti in vista della gara di sabato prossimo si giocherà alle 18 a Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria dell'Abruzzese Marco Giampaolo vediamo il servizio Restano molto distanti le posizioni del presidente Daniele Sebastiani e dell'ex amministratore delegato ed oggi socio della società Biancazzurra Danilo Iannascoli intenzionato ad acquisire la maggioranza delle quote del Pescara attualmente detenute al 70% dal numero 1 della società dopo che il presidente Sebastiani aveva in un certo senso bocciato la New Diligence chiedendo l'offerta della controparte per l'avvio di una trattativa oggi Iannascoli attraverso una nota ha chiesto di poter vedere i conti della società ieri sera ha detto Iannascoli i miei consulenti hanno puntualmente risposto al legale del presidente Sebastiani motivando e rinnovando la necessità di avere visione dei conti aggiornati della società per poter permettere una valutazione oggettiva e quindi poter presentare una giusta offerta per rilevare il pacchetto azionario di maggioranza della società Delfino Pescara essendo iniziata ufficialmente una trattativa ritengo necessaria dice Iannascoli una riservatezza assoluta che possa permettere ai nostri rispettivi consulenti di individuare il percorso più corretto e breve per raggiungere ad un esito che mi auguro sia positivo e per non distogliere in alcun modo il settore tecnico ed i calciatori dall'obiettivo di conquistare la vittoria domenica a Genoa per poter raggiungere l'auspicata ed ancora possibile salvezza e dopo le questioni societarie parliamo invece di calcio giocato perché il Pescara prosegue la preparazione in vista della gara di sabato alle 18 a Luigi Ferraris di Genova contro la Samporia una sfida particolare per il difensore Zampano che è un genovese doc vediamo le dichiarazioni del giocatore biancazzurro per Francesco Zampano quella di sabato a Genova a Marassi con la Samporia non è una partita come tutte le altre hai giocato anche nella Samporia sei genovese quindi giocherai a casa ah beh quello sicuramente ho giocato fin quando ero piccolo dai pulcini fino alla primavera e sono stati 12 anni 12-13 anni molto belli ero piccolo comunque sì torno a casa Genova e niente speriamo di fare la partita noi di ottenere la vittoria e sicuramente fare una grande partita Marassi è uno stadio che regala comunque emozioni Pescara 5 anni fa in quello stadio conquistò una promozione in Serie A sì mi ricordo ha fatto pure il gol Caprari sì sì noi adesso settimana prepariamo bene la partita e cercheremo di comunque dare il massimo quello che non ci è riuscito contro il Chievo e di ripartire dal 5-0 comunque di Genoa quindi speriamo bene veniamo da una sconfitta domenica contro il Chievo che niente adesso stiamo preparando bene la partita e sicuramente loro vorranno vincere perché comunque Marassi è uno stadio importante il tifo importante e vorranno fare bene anche per i tifosi quello che vorremmo fare pure noi e per le persone comunque che vorranno a Marassi i tifosi del Pescara e niente speriamo di regalare una gioia anche ai tifosi lo dicevi anche tu prima non dovrete commettere gli errori commessi al al Bente Godi con il Chievo sì sicuramente settimana ci stiamo allenando bene e speriamo di fare risultato dalla Serie A ci spostiamo in Lega Pro impegno difficilissimo per il Teramo di Ugolotti domenica pomeriggio al Bonolis contro la capolista del Girone il Venezia di Pippo Inzaghi ma i biancorossi potrebbero trovare un valido alleato negli scontri diretti di bassa classifica della prossima giornata di campionato il punto nel servizio di Jacopo Forcella se l'avversario di certo non strappa sorrisi il calendario o meglio gli incroci di domenica prossima potrebbero essere un valido alleato nella rincorsa alla salvezza del Teramo chiaro che la premessa per la banda Ugolotti è quella di provare a fermare o quantomeno frenare la capolista Venezia anche perché la mano bisogna darsela per primo da soli ma è altrettanto evidente che il diavolo scenderà in campo al Bonolis domenica pomeriggio conoscendo già il risultato del Braglia del giorno prima dove in programma un Modena lumezzane da brividi con i canarini di Ezio Lino Capuano a quota 28 e per ora ancora un po' fuori dai radar biancorossi e con i lombardi che sull'altro fronte si ritrovano a meno uno dalla formazione Teramana da un capo all'altro della giornata il lunedì sera il Forlì al Tardini di Parma parte decisamente sfavorito e i gialloblu della Bruzzese da Versa hanno nelle corde una vittoria che lascerebbe i romagnoli a 29 punti ma con una posizione di classifica decisamente più tranquilla rispetto all'undici di Ugolotti ma non è finita qui perché il Bassano ancora scottato dai 6 gol rimediati a Pordenone e dall'esonero del tecnico Lugo Adangelo avrà voglia di riscatto in casa contro il Mantua il clou della zona calda però sarà il del Conero di Ancona con i Dorici appaiati col diavolo a quota 24 punti che riceveranno la vista del Fano Fanalino di coda distante solo 4 lunghezze il Teramo si augura un pareggio che lascerebbe tutto invariato così come preferirebbe il segno 2 all'elvia Recina di Macerata dove arriva il Gubbio che invece è in piena lotta per gli spareggi promozione tanti discorsi moltissimi incroci ma tutto passa dalla sfida del Bonolis che il Teramo dovrà affrontare sapendo di trovarsi di fronte una squadra che ha vinto 6 delle ultime 7 partite con in mezzo il pareggio interno proprio col Parma insomma un avversario non proprio agevole ma che sarà privo del portiere Facchine e del difensore centrale Malomo entrambi squalificati Ugo Lotti proprio dalla squalifica invece recupera imparato Spighi sarà a disposizione ma andrà in panchina modulo che dovrebbe essere confermato con Barbuti e far coppia con Sanzovini attenzione all'ex Stefano Moreo che giocherà esterno nel 4-3 sull'altro fronte in Marsura mentre al centro l'ex Bresciano Geico Lasciamo il calcio venerdì e sabato prossimi si disputeranno a Pescara le Final Four di Coppa Italia di Basket in Carrozzina in competizione anche l'amicacci Giulianova che peraltro organizza l'evento in collaborazione con il Comune di Pescara Conto alla rovescia per le Final Four di Coppa Italia di Basket in Carrozzina che si disputeranno venerdì 3 e sabato 4 marzo al Paleletra di Pescara ci sarà anche l'amicacci Giulianova che ha l'onere e l'onore di organizzare la manifestazione e che nella semifinale di venerdì ore 16 se la giocherà con la super corazzata Porto Torres nell'altra semifinale ore 18 si sfideranno Cantù e Potenza Picena dalla micacci l'invito a seguire l'evento questo è uno sport stupendo non dobbiamo pensare di andare in un palazzetto a vedere dei ragazzi che a fatica corrono dietro una palla questi sono degli atleti veramente e in questa circostanza abbiamo le 4 miglior squadre d'Italia che appunto si contendono la Coppa Italia è un trofeo nazionale questo e quindi ci sarà senz'altro uno spettacolo meraviglioso chiaramente noi cerchiamo di riempire al massimo abbiamo lavorato tanto ci farebbe tanto piacere che questi ragazzi anche perché questi ragazzi più hanno pubblico e più riescono a dare e quindi niente veniteci a vedere perché venite a guardare perché sono dei ragazzi meravigliosi degli atleti meravigliosi il comune di Pescara sostiene la manifestazione nell'ambito del progetto Solidarietà fa sport ai ragazzi diciamo nelle scuole proprio attraverso la società Micacci e tutte le altre associazioni che hanno aderito al progetto e che quindi si trovano all'interno delle classi all'interno delle scuole vogliamo dire che gli ostacoli vanno affrontati e superati con coraggio determinazione e impegno e questo è un grande insegnamento per gli studenti per i ragazzi perché spesso si arrendono davanti agli ostacoli anche agli ostacoli della vita ed è un grande insegnamento anche perché vuole essere un'attività di sensibilizzazione nei confronti delle persone con disabilità ed è tutto per la terza edizione del TG6 grazie per averci seguito e dalla nostra redazione l'augurio di una serena notte grazie per averci seguito